Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore, Paolo Del Debbio ha emozionato il pubblico di Domenica in con una storia toccante, rivelando un capitolo oscuro della sua famiglia che ha lasciato il conduttore e gli spettatori sconcertati. Durante la trasmissione, ha condiviso dettagli intimi sulla deportazione di suo padre, Velio, in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Paolo non si è limitato a narrare l'orrore vissuto dal padre, ma ha presentato il suo nuovo libro, Le dieci cose che ho imparato dalla vita, basato sulle lezioni apprese dalle dure esperienze familiari. Del Debbio ha cercato di trasmettere un messaggio universale di resilienza e gratitudine per le piccole gioie della vita, ispirandosi alla modesta esistenza dei genitori durante la guerra. La storia ha preso una svolta ancora più drammatica quando ha rivelato la sofferenza di suo padre durante la deportazione nel campo di concentramento di Luckenbalde nel 1943. Con una narrazione avvincente, ha descritto gli anni di attesa e il miracoloso ritorno di Velio nel 1945, dopo la liberazione da parte degli alleati. L'emozione ha raggiunto l'apice quando Del Debbio ha condiviso le inumane condizioni in cui suo padre è stato rilasciato. Con soli 40 chili dopo una marcia di 400 chilometri da Verona a Lucca, il ritorno di Velio è stato accolto con gioia e sorpresa dalla comunità, dopo due anni di speranza perduta. La lezione più profonda tratta dalla storia di Velio è stata sottolineata da Del Debbio, mai perdere la dignità nonostante le avversità estreme del campo di concentramento. Il padre e gli altri prigionieri hanno mantenuto la loro umanità, un insegnamento enfatizzato dall'esempio di Velio che, nonostante le circostanze avverse, manteneva la testa alta e si prendeva cura di se stesso. Cosa ne pensi di questa storia toccante? Faccelo sapere nei commenti. Ciao a presto